cibo tecnicamente stella fame questa letterina comincia con i disegni e ce la manda Ambra che ha 9 anni vuole dire che siamo le sue youtuber preferite lei ha 7 lol più le 2 lil ultra rare e un'altra lil voi quanta lol avete un sacco vi voglio bene ciao fate un evento a Firenze guarda che quest'anno potrebbero succedere un sacco di cose io spero proprio di sì perché voglio seguirvi voglio se non riuscite a venire voi da me verrò io da voi per adesso gli eventi quelli sicuri sono quello del romix quello di Cina Città World e ce ne sono già altri pronti e poi c'è scritto batti le mani schiocca le dita Barbara e Lara tutta la vita allora volevo far vedere i suoi regalini perché ci ha fatto dei braccialetti questo è un braccialettino elastico ma questo è una genialata guardate un po' ha usato il filo metallico e ha montato anche la chiusurina così è semirigido guardate quanto è carino e anche l'anellino abbinato grazie pacchettino oh quante cose sono uscite per Barbara e Lara vi adoro allora qui c'è una bella letterina da Jennifer mi chiamo Jennifer Jennifer Duville sono una vostra fan a 8 anni ma non mi posso iscrivere al vostro canale è triste non ti preoccupare non fa niente noi sappiamo benissimo che molti di voi non hanno ancora un proprio accanto non ti preoccupare invece tutti quelli che possono ragazzi iscrivetevi perché è molto importante fateci crescere serve tantissimo specialmente in questo momento che Youtube sta andando un po' male sta facendo un sacco di guai con i video non li mostra li mostra dopo non manda le notifiche quindi aiutateci iscrivetevi posso diventare amica di Lara? ma assolutamente sì e qua ci sono i suoi disegnini 2,70 e un sacco di figurine vi ricordo sempre che tutte le nostre figurine doppie sono tutte quante a vostra disposizione in regalo durante i nostri eventi quindi seguite i vostri eventi con i vostri doppioni potete mettere i vostri doppioni nella scatola dei doppioni e prendere quello che vi serve siete le mie Youtube preferite quando vi guardo mi fate tornare il sorriso da sola con voi che carino che sei ci sono dei regali allora questo è per Lele cosa c'è? cos'è? un veicolo un gippone poi c'è questo ma è scotch c'è scritto per fecio cosa sarà? cos'è? cos'è? ho una borsina wow fatta da lei poi c'è per tutte le LOL una cuffietta fatta da lei guardate un po' ha usato questa è una tecnica molto carina si usa il cerchietto delle bottigliette dell'acqua e ci ha attaccato poi due bottoncini per fare le cuffiette e poi c'è Sira che è maia e questo macchettino che è per Lefavol c'è un cuccioletto e poi c'è questo che è per Lara credo dallo spessore che siano no non so sembravano figurine cos'è? oh che carino guardate un po' è una specie di cubo di Rubik in miniatura quindi più semplificato grazie e c'è tempo anche per la letterina di Gaia guardate che bello ci ha decorato anche la busta anche la bustina dentro l'ha fatta tutta lei ma è una piccolina questa tipitina perché ha la scrittura vediamo tanti anni ha secondo me c'è uno smaltino all'acqua un gusto di mela credo che sia per Alice c'è una Titti e poi c'è una letterina dolcina scritta tutta da lei siete le superstar del canale sì Lollina sì guardi non la dole senza Barbara è furbacchiona e poi c'è sono Gioia e sono del tipitim ma quanto sei dolcina e poi c'è un fratellino qua il fratellino di Isabella che si chiama Giacomo guardate un po' che ci ha disegnato Barbara guarda ci hai fatti uguali guarda ci ha assomigliato tantissimo perfetto guarda sei bravissima e invece la sua sorellina ha otto anni appunto Isabella sono nata nel 2010 ho 21 lol la mia prima lol è stata Lil Bonbon la mia ultima lol è stata Shapes anch'io ho tutte e due le perle io ho anche tutte e due le perle noi no sia l'azzura che la fucsia vado in terza elementare adoro ballare perciò vado a danza appena torno da scuola mi metto subito a guardare i vostri video secondo me siete bravissime simpaticissime vi ho spedito una lettera ma non è ancora arrivata probabilmente l'abbiamo letta perché bene o male le abbiamo lette quasi tutte quelle di prima di questa un bacione potreste salutarmi che carina che sei stata è stata bravissima bene se questo video vi è piaciuto mettete like col pollicino quello in su e poi iscrivetevi anche a questo bellissimo canale perché sul logo c'è lo sfondo raccomalino come me e soprattutto qui c'è il bollino di questo poi c'è quell'altro del canale di barbara e qui sopra vi metto qualcosina da vedere dopo ho detto bene barbara stella sei stata bravissima bene adesso dammi del cibo subito scusami perché perché l'ho detto bene quindi mi merito qualcosa stella no niente niente no hai già mangiato tutte le fine delle barrette ma non suona più le hai mangiato tutte erano buonissime basta allora per un po' basta ma è una gioia ma se le hai mangiato tutte ciao ragazzi un bacio a tutti quanti